Chiudiamo il nostro Tg Economia con la consueta pillola di educazione finanziaria a cura di Giusy Biondelli e Maurizio Poli. Noi ci rivediamo poi dopo la pubblicità per la seconda parte di Sviluppo e Territorio. Eccoci qua, benvenuti. Maurizio Poli e Giusy Biondelli, educatori e consulenti finanziari. Novità per quanto riguarda le imprese, per quanto riguarda i finanziamenti e lo sviluppo delle imprese. Vero Giusy? Sì, certo, certamente. Lo strumento più importante dell'ultimo periodo per le PMI a vocazione internazionale è lo strumento agevolativo di Simes che riguarda la transizione digitale ed ecologica. È stato esteso recentemente ad aprile con una nuova attuazione anche alle mid-cap che significa tradotto in requisito con un totale di unità lavorative di ULA inferiore ai 1500 unità e c'è la possibilità di estendere questo finanziamento che prima di aprile era previsto per un massimo di 300 mila euro, di estenderlo fino a un milione di euro. Fino a un milione di euro, quindi è interessante l'aspetto temporale che vuol dire che dal 27 di aprile al 3 di maggio c'è la possibilità di precaricare le richieste delle imprese e poi entro il 10 di maggio chiude tutto. Quindi l'aspetto tempo è previsto quindi un preinserimento dal 27 aprile al 2 maggio con gli orari previsti per l'apertura della piattaforma che potete trovare sul sito di Simest e dal 3 maggio al 10 di maggio c'è la possibilità di fare l'invio della pratica preinserita e quindi di ottenere un numero di protocollo, un identificativo. Chiaramente le aziende che possono partecipare a questo tipo di bando devono avere, come previsto da circolare, o un fatturato di al 10% verso l'estero negli ultimi due anni, nel caso in cui il fatturato estero sia presente solo nell'ultimo anno, il 20%. Comunque c'è un requisito di fatturato oltre confine da controllare e da verificare. È interessante questo aspetto per le imprese perché permette di avere del denaro fino a un milione di euro da restituire in sei anni con due anni di preammortamento, quindi due anni di preammortamento al tasso dello 0,051 e un 25% per le imprese del nord a fondo perduto. Quindi c'è l'aspetto sì interessante del fondo perduto, c'è l'aspetto del tasso, ma la rendicontazione sui progetti è molto importante, vero Giusy? Sì, è molto importante. È importante anche dire che per quanto riguarda il periodo di preammortamento è un periodo previsto per la realizzazione del progetto. Quindi se noi abbiamo ad esempio una richiesta che è andata a buon fine di 500 mila euro, abbiamo tempo due anni per realizzare il nostro investimento di 500 mila euro, secondo i tempi previsti da decreto. Chiaramente però questo importo dovrà essere suddiviso minimo al 50% nell'ambito della transizione digitale. La parte rimarente può essere destinata alla transizione decologica e o a eventi di partecipazione a firi nazionali e internazionali. Ma è importantissimo perché la condizione inequivocabile è che minimo, almeno il 50% se non di più, comunque minimo il 50% destinato alla transizione digitale. Quindi le parole importanti sono per le imprese sostenibilità, digitalizzazione e transizione digitale. Queste sono le parole d'ordine per le imprese del territorio. Questa è un'opportunità, un booster per le iniziative di trasformazione digitale e di sostenibilità. Sono fondi del PNRR e per le imprese è importante valutare i progetti perché va bene il fondo perduto ma servono i progetti per essere finanziati. Quindi il nostro suggerimento è di valutare i progetti che avete all'interno delle vostre aziende, delle vostre realtà ed eventualmente seguire questa onda. È importante controllare le spese ammissibili. Nella circolare è ampiamente dettagliato, quindi prima di poter decidere quali investimenti realizzare, controlliamo le spese ammissibili e cosa potrebbe essere finanziato da questo tipo di linea agevolativa. Alla prossima!